Ciao Célineers, come state? Benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qua con un pacco che mi è arrivato ed è questo qui! Ancora una volta sono qua a mostrarvi queste bellissime lenti Questa volta sono colori diversi, li ho scelti io, sono tre e sono sicura che me ne innamorerò Ho visto delle recincere veramente fantastiche Poi voi sapete che io ho gli occhi scuri e adesso io ho queste qua Che sono di Top Space e se vi interessano vi lascio un link anche a qualche parte Per andare a vedere l'altro video dove mostro anche queste qua Ora toglierò queste lenti e appunto indosseremo queste qua che mi sono appena arrivate Farò tutto l'unboxing con voi, adesso dovete russare qualcuno E qua dietro la Selena che sta facendo la danna, il suo pisolino E anche questa volta c'è un codice sconto che potete usufruire per avere lo sconto Vi lascerò tutto qua in descrizione e ovunque come sapete Niente, ora le tolgo e iniziamo subito Allora eccoci qua, ho appena tolto le lenti, questi sono i miei occhi scurissimi Ed ecco qua Allora, si presenta in questa maniera, abbiamo il loro cartellino di TDI con tutte le informazioni Tutti i loro account eccetera 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 Troviamo anche degli sticker carinissimi che dopo li farò vedere alla Selena Lei ama gli sticker, se li metterà ovunque Chi adora, anche l'altra volta è una pappanza bellissima così E troviamo anche lo specchietto come l'altra volta Che adesso andrò ad aprire così almeno mi guardo mentre le metto Una delle cose che mi piace più di loro è che so molto preoccupare un sacco con i loro clienti Appunto anche con questi pensierini tipo sticker Che sembrerà anche una cosa banale però è carino E tra questi regalini ci sono anche questi kit qua Che sono delle stelline di tre colori diversi Sono molto 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 carine Ovviamente tutti i contenitori per mettere le lenti Mi ne hanno mandati quattro appunto perché le lenti saranno quattro E sono queste qua E sono dei colori veramente bellissimi Sono sicura che mi piaceranno tutti perché vi giuro che mi sono messa proprio guardate Tutte le recensioni e sugli occhi scuri si vedono veramente tantissimo Io non vedo veramente l'ora di provarle tutte quante insieme a voi Allora inizio ad aprire uno dei contenitori così me lo preparo già con il liquido E anche qua come l'altra volta troviamo i due cosini per appunto aiutarci sia a metterle che a toglierle Che a prenderle Colori diversi dall'altra volta però sempre molto molto carine Ok adesso c'ho qua il liquido pronto E chiudo così dopo appena li tolgo La rimetto subito qua Iniziamo con queste qua Ovviamente vi lascerò tutto Tutti i nomi Tutto quello che vi serve per poterle acquistare Allora Queste sono un bellissimo Colore tipo grigio E andiamo subito a metterle Sembrano veramente bellissime Sembrano quelle che avevo Che usavo prima Tutto quello che avevo Cioè la differenza E si vede tantissimo Cioè sono bellissime Sono tanto tanto naturali E sono veramente bellissime E si vedono sugli occhi scuri come i miei Queste si vedono molto di più di quelle che avevo prato l'altra volta C'è proprio un sacco Ok mi sa che sto per trovare le mie nuove lenti preferite Ora metto anche l'altra Ok mia nonna prova il colore Sono veramente bellissime ragazzi Sono veramente veramente bellissime Cioè guardate Sono tanto 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 naturali E sono lezzerissime da portare Poi per chi non lo sapesse Ci sono anche da aggiungere i gradi In caso comunque Allo sia In caso usate gli occhiali Si aggiungono i gradi E wow Sono veramente veramente bellissime Sono innamorata Wow Sono stupende Ok Adesso andiamo a provare le altre Apriamo queste qua verdi Apriamo queste qua che si chiamano Himalaya green In questo si legge il nome In quelle altre no In queste altre due invece si In quella no lo so perché no Vabbè comunque io dopo ve lo lascio il nome Tranquilli Questi sono proprio verdi E adesso le andremo a provare insieme Anche queste comunque si fanno vedere Molto 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 Questa però direi che sono più per una persona Che dice io voglio gli occhi verdi Non mi interessa se non sembrano naturali Li voglio verdi e basta Ecco Sono molto molto verdi Ecco Molto verdi scuro Ecco il risultato finale Sono verdi Molto molto verdi Molto belli Mi sembrano tipo gli occhi di un super eroe Mi piace tantissimo Sono verdi Adesso andiamo a provare Queste altre che si chiamano Queen blue E anche queste sembrano veramente bellissime Ok Apriamo Ah sì Queste qua mi ricordo le recensioni Erano veramente bellissime Sembrano tipo Un Acqua marina Come si dice? Verde acqua Verde acqua ecco Mi piace un spagnolo io Sono bellissime Vediamo un po' Che carine Anche queste Sono molto delicate Molto molto delicate Metto subito anche l'altra E così vediamo Il risultato finale Ok Questo è il risultato finale E sì Le vedo molto più con un colore delicato Però sono carine anche queste qua Ultimo paio di lenti da provare Sono questi qua Che mi ispirano veramente tantissimo Si chiamano Royal Crystal Che sono così Ma ve la faccio l'idea per dire E queste veramente sembravano Le recensioni sembravano molto Tipo le lenti che avevo io prima Vede che la Selena mi ha Ucciso Sono queste qua E adesso le proviamo subito 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 Mi fa morire Sono bellissime Meglio che non a tenere Sì Sono bellissime Sembrano le lenti che usavo prima Allora queste non hanno per niente un effetto naturale Cioè non direi mai che sembra Sembrano i miei veri occhi Ecco Appunto come quelle che usavo prima Quelle che la signorina mi ha rotto E wow Sono proprio per persone come me Che dicono Io voglio avere gli occhi chiari Gli voglio azzurri E non mi interessa Se appunto anche queste Non sembrano Naturali Sono belle 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 Stupido Non ne ho capito Adesso Altra cosa Allora comunque Io non sono abituata A usare questi qua Però per altre ragazze Tipo che magari hanno le unghie lunghe Sono veramente molto comodi Io adesso sono abituata a farlo così con le dita Che lo faccio da Ormai Più di un anno Quindi La faccio così Però wow raga Guardate che occhi Queste Queste E le prime sono le mie preferite Sono sincera 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 Però queste sono veramente belle Molto 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 A essere Nettore Ragazzi Io finisco questo video in questa maniera Io sono troppo 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 contenta Ringrazio ancora TtDi Per questa magnifica collaborazione Ho ritrovato lenti molto molto simili a quelli che avevo io E wow Comunque la spedizione è molto veloce Cioè ci mettono più o meno due settimane E guardate quanto sono belle Estelenti Sono totalmente innamorata E basta Grazie mille TtDi Ancora per questa collaborazione stupenda Ovviamente mi raccomando Vi ricordo di usare il mio codice sconto Che vi lascio anche qua Vi mando un bacione Vi auguro una bellissima giornata E ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao